Ufficialmente era malato di Alzheimer, ma a quanto pare un settantenne di Gioia del Colle era tutt'altro che incapace di deambulare. La scoperta è della Guardia di Finanza di Bari, che ha ripreso tutto in un video scoprendo la presunta truffa architettata dall'uomo. L'anziano da sei anni percepiva l'indennità di invalidità civile e quella di accompagnamento perché riconosciuto affetto da demenza di Alzheimer, con deterioramento delle funzioni intellettive e con amnesie. L'invalidità avrebbe dovuto impedirli la normale deambulazione e anche di svolgere normali azioni di vita quotidiana che l'uomo invece, come accertato dalle fiamme gialle anche con alcuni filmati, eseguiva regolarmente e autonomamente. Durante una visita medica straordinaria richiesta dall'Inps, il soggetto avrebbe simulato l'infermità, aiutato dalla moglie che lo avrebbe sorretto e accompagnato con l'intento di trarre in inganno la Commissione Medica. Al termine delle indagini, il settantenne in concorso con la donna è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dell'Istituto Previdenziale. L'autorità giudiziaria, a seguito degli accertamenti finanziari, ha disposto il sequestro delle disponibilità bancarie dell'uomo per oltre 30.000 euro, ovvero la somma che il settantenne avrebbe indebitamente percepito a titolo di indennità di accompagnamento negli ultimi sei anni. Grazie a tutti.